Aldo Dolcetti oltre che un grande ex calciatore e un allenatore che è anche un grande appassionato d'arte e realizza anche quadri, dipinti e non solo, come nasce allora questa tua grande passione? In realtà da sempre, ossia ho sempre ovviamente giocato a pallone, il pallone è il numero uno sono stato calciatore, poi allenatore, ma ho sempre coltivato la passione del disegnare, del dipingere e ultimamente, negli ultimi anni, ho cercato così di renderlo un po' più pubblico tutto qua questa mostra a Pietrasanta direi che è molto significativa, proprio perché forse a proposito della tua domanda in modo aperto dichiaro che io appartengo al mondo del calcio, anzi utilizzo elementi del nostro meraviglioso sport per farne pensieri e concetti più trasversali. Questa è forse la prima mostra in assoluto dove, ripeto, c'è un legame stretto tra arte e calcio che sono ovviamente la mia vita. Qui all'interno di questa esposizione il pallone domina? Esattamente, esattamente. Sì, il pallone, diciamo che negli ultimi anni dopo il periodo Covid quello che ho iniziato a fare c'è molta la presenza della natura ma anche della presenza umana e a maggior ragione con l'utilizzo del pallone alla fine li dipingo, li dipingo e quindi diventano sculture ma non perdono la loro funzione originaria, quello di essere un pallone e quindi di essere un presupposto per giocare. Il momento dei ritiri in cui a volte può prevalere la noia è anche il momento in cui magari si può pensare, si può realizzare qualcosa di importante? Ma in ogni istante. Poi è chiaro che quando uno lavora nel mondo del calcio è assorbito al 100%, poi ci sono degli spazi liberi, quegli spazi liberi ognuno li occupa come vuole. Io da sempre ho coltivato un po' di passione, tra cui quella appunto dell'arte. Però ecco, nei ritiri sicuramente sono momenti dove ad esempio ho disegnato tantissimo, tanti quaderni, tanti taccuini e da quel punto di vista mi sono divertito quasi a raccontare un diario per immagini. Ci sono anche dei ritratti di calciatori? In questa mostra diciamo che ovviamente la parte preponderante sono proprio i palloni. Lì dentro ci sono in realtà sui palloni la natura ma appaiono degli occhi e quindi c'è un po' il tema probabilmente dell'osservazione. Sì c'è forse un quadrettino della serie Pratonelle, un piccolo lavoro dedicato a Paul, a Pogba, che è un grandissimo giocatore, campione e una persona splendida. Ecco, e uscendo da questa esposizione comunque a tuo parere, per quello che hai potuto vivere, quali sono gli altri calciatori, allenatori, artisti che coltivano questa passione come fai tu? Ma non lo so, però mi viene da dire il tema dell'osservare. Io credo che un allenatore vuol dire tantissime cose. Tra queste tantissime cose ovviamente il tema dell'osservazione e della memoria. Tutte le mie ricerche legate all'arte di fatto sono legate all'identità e alla memoria. Quindi credo che essere grandi allenatori significa avere quindi memoria e altissima e profonda osservazione. Tanti tuoi calciatori, che sono calciatori che hai allenato, così vedendo, seguendo un po' anche i tuoi social, spesso vengono alle mostre, apprezzano i tuoi lavori? Sì, ovviamente i ragazzi hanno tante altre passioni, come è giusto che sia, ma forse il mio invito, non soltanto loro ma tutti quanti, direi che è quello di seguire di più l'arte, perché credo che l'arte sia di grandissima ispirazione per qualsiasi attività umana che poi uno può fare come prima e vera e reale professione. L'arte secondo me ispira tanto. Ecco, in conclusione, al di là di questa esposizione in assoluto, ripensando a tutti i tuoi lavori, qual è quello a cui sei più legato? Ma non c'è un lavoro, anzi io faccio e poi penso al dopo e quindi quasi cancellerei quello che ho realizzato, quindi non c'è qualcosa di preciso. Però sono contento di questo mio ultimo periodo, dove le cose le sto realizzando, secondo me, con dei pensieri giusti. E quindi, come ho detto all'inizio, questa è una mostra forse che ha un passettino in avanti rispetto alle altre. Un po' perché siamo a Pietrasanta, che è un centro importante di arte contemporanea, ma poi perché davvero c'è anche un minimo di azzardo, cioè di usare il calcio per farne arte contemporanea. E parlare, il titolo ho vietato giocare, parlare di quanto è importante invece giocare e di quanto anche alla fine c'è bisogno di essere leggeri. E in più, visto che non me l'hai chiesto, lo dico io, c'è un'installazione, perché la mostra qua in sé è un piccolo spazio e basterebbe soltanto parlare di due cose. Il campo in erba artificiale, che è stato, sembra una cosa semplice, ma in realtà viene voglia di giocare. E poi c'è un'ottrezzatura mitica del passato, una doppia forca, dove si pensava a suo tempo di migliorare la tecnica individuale. Ma qua è soltanto un pretesto per parlare della tecnica e di parlare che oggi invece c'è la tendenza di essere già pronti subito a fare le cose ad alto livello, per poi invece accorgersi che mancano gli step precedenti, mancano dei passi fondamentali, tra cui quella della tecnica. L'ultimissima davvero, qui abbiamo un pallone che hai realizzato, una bella opera, anche grande. Ecco, ti chiedo quanto tempo hai impiegato e soprattutto quali sono le difficoltà per un'opera di questo genere? Questa è un'opera, beh, anche autobiografica, il tempo. Il tempo sono i ritagli che ho avuto nell'ultimo periodo a Torino e non so quantificare quanto, però è un'opera significativa in effetti perché quello è un pallone che è appoggiato su terra, i campi di una volta, quelli dove non c'era un problema del rimbalzo sbagliato, fango, qualsiasi cosa, ma la tecnica veniva fuori comunque, anzi forse si allenava meglio. E quel pallone è un mitico valsport, siamo nel 1980 e è un, diciamo, è quando sono andato a fare un provino, in quel di Torino, nelle giovanili della Juventus, e quindi c'è ovviamente qualcosa di personale, ma che diventa qualcosa per tutti, perché giocare a pallone io credo che attiri tutti quanti.